ciao amici benvenuti al canale di esaurita pazza ciao come vi va bene che a me io te lo vi ho sempre gli occhiali eh all'inizio devo tenerli se non riesco a accendere il programma forse dite forse era meglio che non accendevi il programma che sei stupida no non sono stupida io sono una che fa solo solo esclusivamente questo nel mio canale io solo questo faccio il mio canale altra cosa non faccio oltre altre cose che prima iniziamo a fare non sapevo cosa potevo fare adesso il mio canale risulta esclusivamente solo per queste cose perciò se a voi non piace vi tocca guardare questo perché questo è il mio canale e questo vi tocca guardare questo qua intanto aspettiamo un attimo un attimino che sto pensando ok e volevo fare anche un'altra cosa perciò voi dovete guardare questo perché il mio canale il mio canale fatto solo per questo qua ok d'accordo 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 se non mi mette un'altra fuori eh così così eh così allora dovete stare d'accordo con le mie mie esclusivamente mie mie perché se non vi piace dovete guardarlo perché ormai io questo canale lo faccio solo per questo allora ragazzi amici miei adesso vi voglio fare un'altra cosa iniziamo a tirare via questa cosa vi credete eh questa qua via la mettiamo la mettiamo la lanciamola ok e teniamo via anche questa così se voglio fare un'altra cosa come solito facciamo così allora oggi voglio fare anche un'altra cosa di diverso però lo so se mi viene lo starnuto non mi viene adesso ma ve lo farò vedere a parte che i miei programmi sono esclusivamente di tornacchi e lo starnuto ma non mi riesce adesso però ci sono anche molti che e ci sono i polmoni fuori quando tossiscono fare non mi riesce forse magari mi riesce un po' questa è la migliore stavo dicendo migliore è bene migliore è il suo letto e poi facciamo mi ha risposto il gatto cosa facciamo facciamo questo qui aspettiamo un po' diciamo che cosa possiamo fare questo è fatto anche questo l'ho fatta e bene perché io ho dato solo esclusivamente questo canale è per questo perciò se è per questo è questo che si deve fare giusto solo che devo cambiare un po' braccio dobbiamo cambiare il braccio e allora se facciamo una parte ma dall'altra parte facciamo questa parte ne voglio fare una saltellando vediamo se riesco beh quasi quasi ce l'ho fatta facendola anche saltellando ho cambiato un po' dobbiamo fare un'altra allora facciamo come facciamo così non mi viene 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 mi è venuta piano proviamo a farlo un po' più un po' più lunga speriamo di venire un po' più un po' lunga vediamo se riesco a battere un record di pernacchia lunga cosa che è impossibile però perché proverò alla mia età bisognerebbe fare così eh vedete se faccio il mio record di pernacchia lunga alla mia età eh perché io ho il fiatone eh ho una certa età dai allora proviamo a fare con una un po' più lunga vediamo se riesco a farla eh 3 2 e 3 scusate ho cercato che mi guarda strano mi guardava strano mi guardava strano non ho potuto fare aspetta che la rifaccia mi guardava con gli occhi mi... non uscivo aspetta ricominciamo allora se il caso mi guardava strano mi veniva da ridere non riuscivo aspetta così ok riproviamo a vedere se riesco a farla più lunga più lunga più lunga eh come ho detto prima con la mia età vediamo se riesco dai proviamo 1 2 e 3 no voglio fare una più più lunga ma se riesco più lunga eh devo riprendere un po' di fiato perché l'ho fatto prima ricordo che mi ha fatto ridere che mi guardava strano allora voglio fare una che riesco a farla un po' lunga salute grazie prego allora 1 2 e 3 aspetta bella 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 lunga questa eh forse era più lunga prima vediamo è possibile ma dai non è possibile che oggi non ce la faccio cos'è voglio fare una un po' più lunga in modo che sono vecchietta come ho detto prima è giungere un po' il record delle pernacche allora amm amm vediamo un po mi devo appoggiare vediamo 1 2 3 proviamo via perchè non riesco non riusciva però è prima ora riproviamo mi sa che oggi non è giornata oggi non è proprio la giornata vabbè ne facciamo un po così qui si un po ce la faccio però non so se riesco a battere il record con questo qui voglio farlo in questo modo come l'avevo fatto prima che volevo vedere se riesco a superare un po' il record della pernacchia andiamo un po no non riesco vabbè vabbè perché ma dai devo riuscirci sarà per un altro video che facciamo mi viene un po meglio proviamo al prossimo video se mi viene un po più lunga 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 e battere il record perché oggi proprio non ce la faccio vediamo con il prossimo video se viene lunga anche qui e e Adesso mi vengono meglio nelle braccia Più lunghe nelle braccia Ma così Non mi viene Manco così Manco così No No Allora Allora vi dico che domani O con un altro video Adesso vediamo Vi provare a fare con la lingua E con queste con le mani Vedete di fare di più E vedere se riesco a fare il record Comunque il mio canale è per questo Non per altri Altre video A meno che non ci siano cose un po' più importanti Ma questo Questo è molto più importante Perché il mio canale è fatto solo Esclusivamente per questo Perciò adesso Faccio un saluto Così Dai Ciao amici Ci vediamo sul canale di Esaurita Mazza Ciao Ciao